Hanno due mesi e mezzo Ray e Ethan, i due cuccioli di tigre nati allo zoo Safari di Ravenna da mamma nuvola. Quest'ultima nel 2013 aveva dato alla luce Sandra e Thor e nel 2017 Conan e Shiba. Abbiamo visto Shiba e Conan, i primi due nati otto mesi fa qui a Safari Ravenna. Loro sono stati allevati artificialmente. Dopo soli quattro mesi mamma nuvola ha dato al mondo altri due piccoli. Ray e Ethan, che in questo caso non sono stati allevati naturalmente, ci sono state le cure parentali da parte della loro mamma. Adesso abbiamo avuto la grande occasione di poter ricongiungere il gruppo familiare che sarà visibile nell'area di ambientamento, appunto nell'area dedicata alle tigre del Safari di Ravenna. Il Safari Ravenna è un parco faunistico che ospita più di 700 animali di oltre 100 specie diverse. Si tratta di animali nati in cattività o provenienti da situazioni di difficoltà. Per la stagione estiva il parco propone un'altra novità, l'arrivo degli orsi. Arrivano gli orsi in accordo con l'associazione animalista che cura questi specifici animali nel mondo. Sono orsi che arriveranno dall'Albania e dall'Ucraina e quindi è in corso la predisposizione dell'area per raccogliere questi animali. Grazie. Grazie.